Ma io prenderò pochissimi minuti per fare un focus sugli organismi di servizio. Il rinnovamento, come ci diceva Giuseppe, lo statuto è stato riconosciuto nel 98, c'è stata una prima revisione nel 2007 e nel 2007 il Comitato Nazionale di Arlora ha ritenuto dare al Comitato Nazionale un assetto comunionale e ha tripartito la figura dell'allora coordinatore nazionale in tre figure, il Presidente con un ruolo di rappresentanza e rappresentanza nel mondo ecclesiale, nel mondo sociale, rappresenta l'associazione e il movimento, il coordinatore coordina le attività interne e il direttore la realtà amministrativa e organizzativa del movimento. All'interno del Comitato Nazionale abbiamo altre tre figure che presidiano tre aree, l'area sociale missionaria, l'area formativa e l'area ministeriale. Il coordinatore coordina queste tre aree e tutta l'attività interna. L'organismo apicale non è il Comitato Nazionale ma è il Consiglio Nazionale, un organismo che è formato dal Comitato Nazionale e da tutti i coordinatori regionali con i responsabili delle varie aree di evangelizzazione e dei ministeri nazionali e all'interno abbiamo, all'interno del Consiglio Nazionale, anche il coordinatore della Svizzera e il coordinatore della Germania. Anche in queste due nazioni abbiamo un numero di gruppi che vivono l'esperienza del rinnovamento nello spirito, oltre alla missione in Moldavia, come ci ricordava Giuseppe. Qual è il ruolo del Comitato Nazionale? È un ruolo propositivo, propone il cammino del rinnovamento al Consiglio Nazionale e all'interno del Consiglio Nazionale si decide il cammino, la vita, la visione del Movimento e dopo la condivisione, dopo il confronto, dopo il discernimento vissuto del Consiglio Nazionale, ognuno per la propria parte realizza il deliberato del Consiglio Nazionale in tutte le realtà. Così noi abbiamo la consapevolezza, ma anche la certezza, che il cammino unitario deliberato dal Consiglio Nazionale arriva fino alle comunità, nelle regioni con i consigli regionali, nelle diocesi con i comitati diocesani e nelle comunità, nei 1700 gruppi e comunità, come ci ricordava Giuseppe, arriva delle linee unitarie del cammino del Movimento. Poi naturalmente ogni diocesi, ogni regione, ogni realtà locale sviluppa in base al proprio caratteristico e anche al luogo dove si trova il proprio cammino. La bellezza di poter riconoscere oggi una dimensione collegiale e sinodale nel Comitato Nazionale ci porta a dire che la visione che Papa Francesco oggi ci consegna di una chiesa in sinodo dove la collegialità, il discernimento, la visione unitaria di un movimento, questo già ci appartiene dal 2007 perché come vi dicevo il Comitato Nazionale di allora ha offerto questa dimensione collegiale e comunitaria a partire dal Comitato Nazionale di Servizio. La figura del coordinatore naturalmente è la figura che all'interno del movimento accompagna i vari organismi nazionali, regionali, diocesani e locali nel cammino che ci ha presentato Giuseppe adesso e la finalità è fare in modo che le comunità locali vivano l'esperienza di vita comunitaria, di annuncio, di presenza ecclesiale nelle diocesi, siamo presenti in tutte le diocesi italiane e soprattutto essere presenti nel tessuto sociale delle realtà dove viviamo e nella dimensione ecclesiale, parrocchiale e diocesana. A livello nazionale abbiamo un cammino di formazione nazionale che è un cammino unitario di formazione, un'attività formativa ministeriale e soprattutto una dimensione formativa che ci porta verso l'annuncio, verso l'esterno, verso l'annuncio come ci diceva Don Michele, l'annuncio della parola. Ed è un annuncio carichimatico che parte da un'esperienza personale, di incontro personale con Gesù, vissuta all'interno di una comunità e portata fino alle persone che non vivono l'esperienza di fede, ma soprattutto questa possibilità di dar vita a delle comunità locali come vita comunitaria, che è vissuta in comunione tra i fratelli appartenenti alla comunità, ma soprattutto richiamando la prima comunità cristiana con Atti 2.42, la formazione, l'assiduità alla parola, la vita fraterna, la preghiera e soprattutto la condivisione all'interno delle nostre comunità. Nel rinnovamento noi viviamo questa esperienza del battesimo nello spirito che ci permette di riscoprire la grazia battesimale e all'interno di ogni gruppo e di ogni comunità noi viviamo questa presenza ecclesiale, questo slancio missionario e questa esperienza di fede che, come nelle prime comunità cristiane, ci auguriamo possa sempre più determinare quell'essere riconoscibili come cristiane dall'amore che circola nella comunità e dal desiderio di servire i poveri, i lontani e prenderci cura dei nostri fratelli che sono lontani dalla fede. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io quando dico di eventi intendo dire eventi nazionali perché il rinnovamento come abbiamo ascoltato ovviamente ha una vita anche regionale, diocesana e poi nelle comunità dove c'è la vita proprio delle comunità, la vita, consentitemi, quella più forte perché il rinnovamento poi si articola come abbiamo ascoltato nelle comunità dove la vita è vissuta, l'esperienza cristiana è vissuta in modo più forte. Quindi tornando a questi eventi nazionali abbiamo una prima grande distinzione possiamo fare tra gli eventi di evangelizzazione e gli eventi di evangelizzazione e gli eventi di evangelizzazione sono quegli eventi che sostanzialmente sono rivolti a coloro che sono anche lontani da un percorso di fede, coloro che non hanno, non vivono un'esperienza di fede ma che intendono però riavvicinarsi alla fede cristiana, fare un'esperienza cristiana, magari anche coloro che non frequentano o che non hanno mai più frequentato da anni o che sono lontani o che non conoscono proprio in nessun modo la fede cristiana. Per cui questi eventi non è che sono aperti solo a loro, cioè non è un'esclusiva, ma sono particolarmente pensati e indirizzati perché l'annuncio possa essere, l'esperienza possa essere accolta da Costoro. Per cui anche i nostri fratelli lavorano nelle comunità anche per fare l'invito soprattutto a queste realtà perché si possa vivere questa esperienza e dentro questo ambito sicuramente dobbiamo inserire la convocazione nazionale la convocazione nazionale dei gruppi e delle comunità del rinnovamento che storicamente si svolge a Rimini che anche quest'anno si svolgerà a Rimini, è arrivata la 46esima edizione, ha avuto come tutte le attività la sua battuta di arresto con il Covid, in realtà è stata vissuta in modo diverso, ci siamo diversamente convocati con le modalità che potete immaginare online e quant'altro, però questa realtà ha continuato a vivere anche in quel momento, in quei periodi e adesso siamo arrivati nel 2024 alla 46esima edizione e quindi si svolgerà dal 26 al 28 aprile. Poi sempre in questo ambito segnalo l'esperienza prevista per i giovani che ci sarà dal 6 all'11 agosto chiamata Estate Evangelizzando, proprio detto nel nome quello di cui stiamo parlando ed è rivolta a tutti i giovani, anche questa è un'esperienza molto consolidata normalmente si svolge in località marittime e sono i giovani che le organizzano quindi loro sanno scegliere bene anche quello che a loro piace ma questi eventi storicamente hanno raggiunto anche punte di 700 e anche oltre partecipanti quindi io sono abruzzese, ricordo le edizioni abruzzese che abbiamo fatto da noi erano 700 partecipanti i ragazzi quest'anno si svolgerà a Lignano Sabbiadoro in provincia di Udine una stupenda struttura che è messa a disposizione e aspettiamo anche un gran numero di giovani anche lì attività pensate per loro esperienza di preghiera, esperienza di formazione tematiche legate al mondo giovanile workshop e soprattutto esperienza di fraternità e di socialità che ai nostri giovani sicuramente piace poi ancora sempre in quest'ambito segnalo la vacanza carismatica famiglie che è la corrispondente iniziativa però per le famiglie che normalmente si svolge a Loreto ha una sua dinamica un po' diversa adesso non entro proprio nello specifico altrimenti ci vorrebbe troppo tempo però diciamo anche qui non è aperta alle famiglie del rinnovamento nello spirito che frequentano il rinnovamento ma alle famiglie in modo ampiamente inteso ed è una bella esperienza di socialità anche tra le famiglie poi ci sono gli eventi formativi più strettamente formativi e anche qui primo tra questi segnalo la scuola di animazione carismatica nazionale la scuola nazionale di animazione carismatica e siccome noi siamo i carismatici quindi la scuola di formazione carismatica è particolarmente significativa diciamo che è l'occasione per approfondire anche per consolidare la spiritualità carismatica il servizio carismatico e anche qui quest'anno abbiamo dovuto fermare bloccare le iscrizioni non sapevamo più dove iscrivere siamo arrivati a oltre 300 partecipanti quindi anche questo è un segnale di quanto la spiritualità in realtà sia richiesta e sia un bisogno dell'uomo di oggi anche poi ancora segnaliamo due esperienze formative una rivolta ai sacerdoti e bentennale il ritiro nazionale per sacerdoti e diaconi che si svolgerà come ogni anno ad Assisi a novembre e il ritiro nazionale per le religiose questa è una new entry nel nostro calendario perché è solo da tre anni che ci si rivolge anche alle religiose con una iniziativa anche rivolta a loro tra l'altro per loro l'iniziativa è nata proprio in periodo Covid quindi la prima di queste edizioni è stata fatta con alcune suore collegate in video dai loro conventi e diciamo che anche quest'anno si terrà a luglio dal 9 al 13 luglio questa iniziativa di formazione per le religiose poi segnalo due pellegrinaggi il pellegrinaggio ventennale in Terra Santa che è in programma di volerlo svolgere abbiamo la speranza che anche quest'anno nonostante il clima politico, sociale che interessa quei territori in questo momento si possa comunque svolgere questo pellegrinaggio perché questo pellegrinaggio proposto dal rinnovamento ha un suo specifico perché non è solo l'esperienza e la visita dei luoghi santi ma a coloro che partecipano il rinnovamento propone all'interno del pellegrinaggio un cammino e un percorso spirituale per cui fare delle tappe all'interno di questo pellegrinaggio non è solo una tappa turistica in una determinata località ma diventa anche luogo dove si svolge un'esperienza prevista nel cammino del pellegrinaggio quindi è un pellegrinaggio, cammino, esperienza spirituale e anche qui ogni anno c'è grande richiesta di questa esperienza e speriamo che Giuseppe poi tu ci aggiornerai su come è la situazione anche su questo fronte e poi il pellegrinaggio, ancora segnalo il pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia che si terrà anche quest'anno in due santuari mariani diversi per il nord, diciamo centro nord e per il sud quindi Pompei e Loreto saranno le località siamo alla 17esima edizione e infine non voglio andare oltre con questa scaletta di avvisi ma è tutta vita quella che sto annunciando segnalo anche i pranzi di Natale che quest'anno siamo stati all'undicesima edizione sapete si tratta di un'iniziativa che si svolge presso le carceri e il rinnovamento la svolge in collaborazione con Prison Fellowship e la Fondazione Alleanza dove in quel giorno si organizza un pranzo animato nelle carceri per i carcerati e quindi anche questo è in programma per il 2024 e si svolgerà il 19 dicembre mi fermo qui perché credo che io abbia consumato tutto il tempo c'era una parte da dire un po' sulle strutture ma lasciamo grazie Giampalo tutte queste date, tutti questi eventi possono sembrare uno schema organizzativo, strutturale un evento dietro l'altro ma vi posso dire che attraverso questi passa tanta grazia da ultimo ne raccontava quello delle esperienze delle carceri dove questa prossimità, quella periferia esistenziale ma abbiamo carceri, abbiamo dei luoghi della sofferenza, ospedali abbiamo situazioni di vita quello che Don Michele prima ci diceva questo annuncio arriva alle periferie dell'esistenza dell'uomo quindi questi momenti sono non altro che un'esplicitazione se parlavamo dal cenacolo alla piazza la piazza per noi è raggiungere l'uomo e raggiungere l'uomo nelle sue espressioni più anche di sofferenza o altro quindi dentro tutti questi eventi passano mani, passano uomini, passano fratelli che attraverso il loro offrire servizio e qui permettendo di chiamare una parola gratuità questa gratuità che è dono immenso alla Chiesa e che oggi anche il sinodo diciamo fortemente prossimità sono le due espressioni attraverso il quale il rinnovamento nello spirito si fa dono in tante situazioni intorno a noi quindi non è un calendario asettico un calendario dove sembra un evento dentro l'altro ma dietro tutto questo ci sono volti ci sono sguardi, ci sono uomini, ci sono donne ci sono persone che gridano e alle quali per quello che è nelle nostre possibilità raggiungiamo il rinnovamento nello spirito anche Rosario prima richiamava l'aspetto della presidenza, coordinatore, direttore anche ambiti abbiamo ambiti anziani, giovani, famiglie, sacerdoti ecumenismo, seminari di vita nuova, volontariato guardate un altro aspetto fondante questo volontariato le nostre convocazioni nazionali e regionali trovano nel volontariato di tanti fratelli, uomini e donne un'altra espressione altissima che è quella di ciascuno che si fa dono per l'altro ecco allora dietro questo ci sono volti e questi volti molte volte voi li raccontate attraverso i media e vi ringraziamo perché attraverso di voi arriva il messaggio io dicevo con Francesca sembrava bello questa espressione di Gesù della emorraissa che se solo riuscirò a toccare un lembo io sarò guarita ma volevo significare attraverso cioè mantello, passa la grazia attraverso la comunicazione quando ci diceva prima il rettore la comunicazione buona e la comunicazione cattiva quella fatta se attraverso di voi vi fate portavoci di quanto bene c'è intorno a noi nella chiesa e nel mondo c'è anche tanto chiasso tanto dolore tanta sofferenza e lo tocchiamo in questi giorni ma non perdiamo la speranza è davvero un nuovo mondo una nuova società attraverso l'annuncio del Vangelo possa raggiungere ogni uomo non è una domanda è una ridendanza di chi mi ha ascoltato attentamente mi permetto di segnalare un particolare che forse come dire facendo risuonare spesso la categoria di esperienza più volte ripetuta potrebbe apparire quindi parlo come uno che sta in mezzo come una dimensione quella di cui abbiamo parlato come dire che accentua alcune spaccettature che però possono prendere aspetti anche negativi in realtà l'esperienza del rinnovamento nasce proprio a Roma dentro la Gregoriana cioè dove persone come Sullivan Farisi Martini si resero conto che questa dinamica che è trasversale quindi nasce in un luogo come questo non è fuori dal contesto della riflessione anche se Papa Francesco ci tiene a sottolineare che lui vuole evitare che la teologia sia fatta a tavolino quindi suppongo che questa dimensione della ridondanza della categoria esperienza è solo per direi pastoralmente tradurre quello che dice Papa Francesco dando che scondato che il cristianesimo è una persona è un fatto quindi non può non essere anche un'esperienza però l'esperienza è anche un'esperienza intellettiva un'esperienza volitiva un'esperienza coinvolgente un'esperienza che mette insieme fede e ragione un'esperienza che sin dall'inizio come ho sottolineato questo accadeva in un luogo molto simile a questo cioè la pontificio università gregoriana ha sempre avuto un accompagnamento che nel magistero ha trovato la sintesi ma nella riflessione in questo caso di chi viveva l'esperienza anche teologica ha aiutato molto ad andare avanti quando Sunez prese tra virgolette il compito di accompagnare di nuovamente in realtà si preoccupò di prendere queste persone che vivevano l'esperienza anzi di prendere pure persone che non la vivevano uno per tutti con Gar ma anche Casper Ratzinger eccetera per essere aiutato a una mi dispiace che Sua Eccellenza sia andata via spero che gli arrivi questo messaggio ma anche per intelligere l'esperienza cioè per fare in modo che quello che era l'esperienza non fosse un'esperienza fuori dal contesto di quella che è la retta ortodossia della fede e quindi anche i documenti di Malinz ma in realtà anche tutte le altre riflessioni offerte dal Magisterio si collocano in questa esperienza mi sono permesso di ricordarlo non perché forse a voi è sfuggito però visto che siamo riprendendo una comunicazione in un luogo ufficiale come è l'Università del Papa forse è opportuno che noi ricollochiamo nella comunicazione questo aspetto che non è secondario non è secondario né per i giovani né per le famiglie né per quello che accade né per intelligere il reale che ci circonda ma anche per fare in modo che realmente poi questo predicare annunciare l'Evangelo sia alla luce di quello che accade realmente cioè di quella che è l'esperienza del vissuto dell'umano nel quale si incarna l'esperienza del vissuto nella forza dello spirito grazie Don Angelo così mi dà la possibilità di dire che il rinnovamento carismatico nasce in un ambiente universitario quindi al luogo proprio da questa intelligere come dici tu dove si interrogava cosa stesse avvenendo nella chiesa che non c'era più quel fervore che aveva animato le prime comunità cristiane quindi quello dell'esperienza degli atti degli apostoli ma vi ricordo anche che nel passaggio dicevo il rinnovamento dello spirito parlo dell'Italia quando ci viene consegnato l'approvazione dello statuto dice chiaramente il vettore che non è un'esperienza ma è un cammino comunitario quando portiamo dentro queste parole cammino comunitario nasce tutta quella che è la dinamica poi anche dell'aspetto formativo tant'è vero che l'80% delle nostre realtà in Italia che siamo ad esperimento in Italia è una delle prime realtà che viene riconosciuto da una conferenza episcopale da una conferenza episcopale poi nel mondo si diffonde attraverso tanti altri strumenti di grazia uno degli aspetti fondamentali è la formazione dicevo l'80% delle nostre realtà quindi cenacoli gruppi comunità porta dentro di sé due momenti settimanali uno formativo e l'altro esperienziale quello della preghiera poi la formazione si esplica attraverso il contesto proprio di ogni regione come ci ricordava Rosario sullazzo e quello che sono anche l'aspetto che la Chiesa consegna ogni anno come guida al cammino in Italia dico da parte della conferenza episcopale italiana inserendosi in quello che è il solco oggi ne stiamo vivendo a pieno la sinodalità il rinnovamento nello spirito ancora prima questa esperienza della sinodalità è fondante nel rinnovamento quindi siamo dentro un cammino comunionale forte e ti ringrazio perché questo ci spinge ancora di più a approfondire a dare ragione della nostra fede come ci veniva detto prima perché se non attraverso una giusta formazione noi rischiamo quello che ci diceva il rettore di diventare dei devoti ma noi vogliamo radicare la nostra fede nella conoscenza e questa conoscenza mi fa entrare ancora di più poi nel mistero della grazia dell'amore di Dio e non solo per me ma anche quando poi sono chiamato a dare ragione della mia fede agli altri quindi grazie per questo ulteriore attenzione allora per i giornalisti due parole sono fondamentali il tempismo la puntualità e voi lo avete rispettato in pieno e la sintesi intanto grazie alla presidenza il comitato nazionale di servizio che è rappresentato anche da Lorenzo Pasquariello e da Carlo Sella che sono altri due membri qua con noi e grazie a voi veramente ci teniamo a sottolinearlo perché oggi sono qui rappresentate tutte le gestate romane chiaramente di spicco a livello nazionale però sappiamo che anche a livello locale è stato ricordato prima c'è una grande opera un grande dialogo che prosegue e anche appunto il giornalismo diffuso non solo quello appunto centralizzato per noi è preziosissimo e quindi arrivi a voi a tutte le testate che rappresentate i colleghi veramente il nostro il nostro grazie abbiamo promesso di essere appunto puntuali perché le agende sono piene per i colleghi che sono arrivati dopo questo è un piccolo omaggio sono delle una penna e una matita un'idea della nostra presidenza per veramente accompagnarvi in questo anno che si è appena aperto e per scrivere insieme buone notizie noi continueremo a darvi quindi state connessi perché a breve arriveranno ulteriori ulteriori novità permettete un piccolo gesto semplice quello di consegnarvi una penna e una matita nel dire ricordatevi di noi quando scrivete ma anche come diceva Madre Quiteresi io sono una penna che è una matita nelle mani di Dio aiutateci a scrivere insieme questa opera straordinaria grazie a ciascuno di voi spero di potervi rivedere anche in una prossima il nostro incontro attraverso il nostro ufficio stampa sarete contattati ma vorrei concludere se abbiamo iniziato il lettore ci portava all'immagine di Maria con un'Ave Maria e così che accompagni le vostre famiglie il vostro lavoro e tutto quanto è intorno a voi grazie per questa presenza per il tempo che ci avete donato e poi con il canto finale Don Michele che il consigliere ci guida in quest'Ave Maria e poi ci salutiamo Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi i peccatori ad esse nell'ora della nostra morte il lettore si scusava perché aveva un impegno di là detto eventualmente se riusciva altrimenti ricevete anche il suo saluto a nome su grazie e buon proseguo nelle vostre vite e attività lavorati grazie 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 grazie